7 ottobre, siamo qui all'uscita subito dell'autostrada Roma-Napoli a Monteporzio. Questa è una rotatoria fatta di recente, guardate come è arredata e come è avvellita. Io non so se a Via Longoni o l'altra rotatoria sulla Prenestina il Comune di Roma, il Dipartimento sarà in grado di svolgere e di realizzare un'opera di questa portata. La rotatoria è affidata a privati che ne curano in cambio di un reclame, la bellezza, l'efficienza, la manutenzione, guardate che roba, è veramente uno spettacolo. Ce n'è un altro a presto che adesso vediamo di riprendere. Scusate che rimonto in macchina, rimonto in macchina e vediamo che cos'è. parliamo, vedete, questa pure è affidata a Poggio Le Purti che è una cantina, guardate che bellezza, guardate che bellezza di rotatoria, guardate, scusate ma sto in strada, è una ripresa di rotatoria, guardate che... questa è quella di prima, vista da dietro, tutto da Poggio Le Torri che è un cantino che lo sega, avete visto? Le cose li possono fare. Grazie.